Buongiorno a tutti, io voglio ringraziare Vladimiro per l'invito, Peneto di Scienze e Lette e Arti, per l'organizzazione del pendito convegno. Allora, la mia relazione è entrata appunto sulle matrici cartografiche. Farò una breve panoramica di carattere generale sulla stampa cartografica, sulla sua importanza. Nel tempo mi soffermerò sul ruolo che hanno svolto e su come queste matrici calcografiche sono state considerate nel tempo come sono considerate oggi e vi darò un'anticipazione dello stato dell'arte, della conservazione delle matrici della collezione IgM in previsione della mostra che sicuramente avete letto nel ricchissimo programma di Vladimiro di queste celebrazioni che terremo all'Igm il 27 ottobre prossimo, a quale ovviamente siete tutti invitati. Allora, l'introduzione della tecnica calcografica, la riproduzione delle carte in generale risale come noto al 1477 con l'Atlante tolemaico di Bologna. Come è stato già evidenziato in modo di resa, ustivo, da Coli Werner nel saggio inserito in Five Centuries Map Printing, curato da David Woodward nel 1975, l'affermazione di queste nuove procedure, di questa tecnica calcografica avviene in sostanza grazie a sei elementi fondamentali che possono essere riassunti con questa lastrina. in primo luogo perché con essa, con questa nuova tecnica, si poneva fine ai mutevoli, ai notevoli inconvenienti delle riproduzioni di manuenzi con i conseguenti problemi di informazione di refusi, licenze del copista o interpretazione emende di carattere vario. Si superavano decisamente i limiti propri dell'axilografia, specialmente per quanto riguardava la dimensione delle lastre, che è stata già richiamata da Valadimiro Valerio prima, quindi con matrici molto più grandi. Si conseguivano maggiori precisioni grafiche per la finezza dei segni tracciabili sul rame, i decimi di millimetro richiamati, poc'anzi, vi danno sicuramente l'idea di cosa potesse essere realizzabile con un rame e che viceversa con un'incisione sul legno era praticamente impossibile. Si disponeva di un relativo margine di intervento per l'effettuazione di correzioni e per l'introduzione di elementi di aggiornamento, che non era una cosa da poco, assolutamente. Su questo c'è stato un ottimo richiamo nella relazione di Mary Padley. Si conseguiva una riduzione dei costi di produzione, dando la possibilità infine alla più ampia produzione in serie con diffusione di carti in tutti gli ambiti della popolazione, però di carattere d'anca ovviamente. In pratica si dà origine proprio a un nuovo indotto produttivo con la nascita di nuove professioni che alimentò una filiera che andava appunto dai ramaie ai calderai, incisori ai calcografi, agli editori di carte singole e di atlanti. Numerosi furono i luoghi di produzione di queste lastre di rame che sorsero in Europa, dalle fabbriche della Sassonia alle note usines parigine della Rue Saint-Jacques, che ha mostrato Mary Padley questa mattina, oppure della Rue de la Chet, anche alle varie fabbriche londinesi della L'Olen, qui ho portato delle riproduzioni, per non citare ancora meno note, ma attivissime fabbriche belge, italiane, che contransegnavano appunto i propri prodotti metallurgici con queste punzonature, con punzonature di questo genere apposte in genere sul verso delle lastre. In pratica l'importanza della stampa calcografica nella storia della tecnica e dell'arte, oltre che dalla testimonianza dell'immensa mole di prodotti realizzati dalla sua prima comparsa, credo sia data soprattutto dalla impari longevità, che ha caratterizzato ben cinque secoli e ha superato per qualità e per durata qualsiasi altra tecnica di riproduzione. L'esigenza di ordinare, di diffondere le conoscenze in merito a questa tecnica e alle arti ad essa collegate, portò ben presto alla realizzazione dei primi manuali di incisione. Cito per dovere innanzitutto il Trattato dell'Orofficeria di Benvenuto Cellini, nel quale appunto l'autore esaltò il modo facilissimo e bellissimo per fare acqua da intagliare le piastre di rame invece di far col bolino. Mentre le più estese notizie sull'arte dell'incisione si ritrovano poi nella seicentesca opera di Abraham Boss, Tracté de manière de gravé, del 1645, e quella dell'incisore inglese William Fethorn, The Heart of Graving, edito due volte, la prima volta nel 62, poi Postum e un'altra edizione ampliata, nel 1702. Per la rilevanza, per la sua rilevanza, la calcolografia assurse poi agli onori della documentazione e fu minutamente illustrata da Denis Diderot, l'immagine ce l'ha già proposta a Mary Paedli stamattina, che nell'ensiclopedia illustrò proprio tutte le fasi della lavorazione del rame, dalla fusione del metallo negli altofondi della Sassonia, alla lavorazione delle volate per la minatura, per la trafilatura, la formatura, l'incrudimento, i vari dettagli concernenti poi le operazioni e gli strumenti di incisione, a taglio dolce o all'acqua forte, e di cure di lettere, e la stampa con il mitico Torchio a stella. Vi mostro, ovviamente, alcune delle immagini tratte appunto dall'Encyclopedia, e queste invece sono prese dal trattato di Feithorne, l'incisione a bulino e l'incisione all'acqua forte, e infine appunto l'uso del Torchio a stella. Scusate, mi ho perso il filo. Ma appunto, dicevo, questa è la panoramica offerta dalle pubblicazioni maggiormente note del tempo, mentre però c'è da ribadire, da mettere in evidenza ancora una volta, un fatto importante, cioè che l'attenzione verso l'incisione e la stampa calcografica viene elevata sicuramente a un livello alto, tanto da essere inserita nell'ambito degli insegnamenti regolari delle Accademie di Belle Arti, però non riserva un'analisi, una considerazione per tutti i prodotti di quest'arte. Che vuol dire? Vuol dire che la considerazione è sempre stata rivolta unicamente verso le sole repliche calcografiche, cioè l'esito di questo percorso, di questo processo, verso la stampa finale, ignorando quasi del tutto invece le matrici che queste repliche avevano generato. La sorte di queste matrici ha in effetti registrato nel tempo alterne vicende, sia in ragione del considerevole valore del metallo che le costituiva, sia perché esse furono viste per il passato come dei meri strumenti di riproduzione. Esagerando un po', potrei dire quasi al pari di una cassaforma o di una centina o di uno stampo in ghisa. Il valore di una matrice calcografica era del resto dato in origine proprio dal suo soggetto, attraverso il quale si esprimeva il potenziale mercato che la sua stampa era in grado di generare. Questo valore però subiva poi un inevitabile decremento e questo avveniva al diminuire della forza di stampa della matrice stessa, cioè della sua capacità di generare repliche calcografiche fino al punto di raggiungimento del tracollo finale per esaurimento dei tratti incisi oppure talvolta succedeva per collasso del materiale sotto la pressione del torchio nei quali casi ovviamente la matrice ritornava ad assumere il semplice stato materico di lastra di rame. Era infatti un'antica consuetudine tentare di restituire forza a una matrice che si avviava a esaurimento con interventi di rialzo e di ritocco al bulino che talvolta consistevano nel rinforzare i tratti appiattiti dalla pressione del torchio occupandone, rioccupandone proprio puntualmente le precedenti sedi e altre volte comportarono invece una reinterpretazione del soggetto originario con la posizione di nuove trame segniche che si sovrapponevano alle precedenti dando origine ad opere visibilmente diverse da quelle originali come può testimoniare ad esempio la celebre Urbis Roma esceografia ex antico monumentis accuratissime delineata realizzata dal Diuperac nel 1574 e ripristinata poi da Villa Mena agli inizi del del 600 e appunto costituisce sicuramente un caso esemplare quando quando però le matrici non erano più recuperabili per ecco vi faccio vedere i dettagli ecco vedete sotto l'immagine della i tratti quasi scomparsi della incisione all'acqua forte e il rinforzo se non la reinterpretazione direi del Villa Mena che genera ecco questa forse la più eloquente vedete i vecchi tratti all'acqua forte e la nuova incisione del Villa Mena questa cosa portò peraltro ad attribuire al Villa Mena l'incisione di questa di quest'opera che Anna Grell riuscì poi a mettere in evidenza e ad attribuire giustamente al proprio all'originale autore dicevo quando però queste matrici non erano più recuperabili per nuove tirature esse venivano o riutilizzate per la loro incisione sul verso dopo aver subito un apposito trattamento di spianature e levigature oppure venivano avviate a una nuova fusione per recuperarne il costoso materiale come interpretare oggi la decisione di l'architetto Giuseppe Valadier quando alla direzione della calcografia camerale pontificia agli inizi dell'ottocento destinò alla fusione addirittura una quantità enorme circa 4.000 matrici della stessa calcografia definendo ormai rami di scarto questa è una bella domanda ed è una domanda che ha occupato larga parte degli studi della citata Anna Grelle una matrice che aveva perso la sua forza originaria era dunque ancora meritevole di conservazione questo è il quesito a cui Anna Grelle dedica nota storica dell'arte italiana non dica larga parte delle sue ricerche per la valorizzazione della più grande collezione di matrici metalliche esistente al mondo è costituita oggi presso l'Istituto Nazionale per la Grafica sulla scorta proprio del lavoro di Anna Grelle anche presso l'Igm si è dato recentemente avvio a un riesame delle matrici calcografiche storiche iniziando proprio dai fondi provenienti dal reale ufficio topografico di Napoli la collezione di matrici metalliche dell'Igm impiegate fino agli inizi dello scorso secolo per la stampa calcografica delle carte annoverano il complesso 2619 templari dei quali soltanto 30 sono i soggetti non cartografici che sono composti da alcuni ritratti figure geometriche di tipo allegorico vedute di Firenze di Castel Sant'Angelo mentre tutta la rimanente parte è composta da 2589 carte topografiche e coreografiche datate a partire dal 1747 in questo ricco insieme di opere le matrici provenienti dai fonti dell'officina topografica poi bureau topografico poi ancora reale ufficio topografico e infine sezione staccata dell'ufficio tecnico del corpo di stato maggiore dell'esercito data appunto il diretto Mani e Antonio Rizzi Zannoni montano a 71 esemplari che sono composti dall'Atlante Marittimo delle due Sicilie dalla carta del litorale di Napoli i suoi pochi antichi più rimarchievoli la nuova carta della Lombardia e delle sue regioni adiacenti o aggiocenti la carta del regno di Napoli indicanti la divisione delle 15 sue province la nuova carta nell'isola il regno di Sardegna di padre Tommaso Napoli l'Atlante celeberto l'Atlante geografico del regno di Napoli e l'Atlante ridotto dalla ridotto l'omonimo appunto mostratoci prima da Vladimiro le matrici della collezione dell'Igm quindi provengono tutte dalla per eredità diretta diciamo se mi è concetto la nota forzosa diciamo non diretta ma forzosa dalla sezione staccata dell'ufficio tecnico del corpo di stato maggiore dell'esercito che fu assorbita in quella istituzione postunitaria che sarebbe poi diventata nel 1882 istituto geografico militare esse hanno sofferto nel tempo gli effetti dell'uso a fini riproduttivi che hanno determinato in taluni casi deformazioni notevoli consunzioni della superficie incisa e qualche cedimento strutturale ma anche le conseguenze del trascorrere del tempo per effetto di una non proprio perfetta corretta conservazione oggi lo stato di mantenimento di questi rami è diciamo molto buono per le matrici dell'Atlante Marittimo delle due Sicilie per quanto riguarda il foglio 14 dell'Atlante Geografico del Regno di Napoli e della Carta del Littorale mentre si è osservato qualche qualche problema si è osservato qualche problema per quanto riguarda la restante parte che è caratterizzata diciamo da una ossidazione superficiale non proprio omogenea devo precisare che in questi casi quando l'ossidazione delle matrici metalliche è ridotta ed è omogenea costituisce quasi una difesa perché come se stendesse una patina di protezione sulla matrice altro è quando invece questa ossidazione comincia ad assumere dimensioni maggiori inoltre c'è da aggiungere che l'esame al microscopio ecco scusatemi vi mostro nel frattempo l'ottimo direi stato ecco non volevo usare questo proprio ottimo stato di conservazione per prudenza ho detto molto buono ma ottimo stato di conservazione dell'Atlante Marittimo vedete qui il frontespizio le immagini sono ovviamente rovesce perché sono dei cliché l'indice questo è il foglio 3 recto per agevolare il riconoscimento delle forme della scimosa costiera mi sono permesso di fare anche un'operazione non del tutto ortodossa che è questa praticamente ho stampato il rame diciamo non bene è certamente più facilmente riconoscibile e questo invece è l'Atlante geografico è il quadro di unione generale si vede molto poco sia perché è un rovescio sia perché il tratto è finissimo sia perché c'è questa appunto questa patina di ossidazione ma rovesciando l'immagine avendo l'immagine speculare la scimosa costiera si riesce a intravedere e si riconosce un po' la forma dello stivaletto questo invece è un verso del quadro originale dove si vede evidentemente si vedono gli effetti dell'incrudimento della lastra che veniva martellata proprio sul verso per dare maggiore consistenza alla lastra per dargli conferire maggiore durezza nello stesso tempo resistenza la pressione del torchio e anche agevolare l'atto dell'incisione quindi immaginate quando questi rami venivano poi utilizzati sul verso che in lavorazione dovevano subire per rendere poi una ritornare a una superficie di questo genere insomma dicevo però oltre a queste che mostrano evidentemente uno stato di conservazione comunque buono un ottimo a volte l'esame a microscopio delle lastre effettuate da affette da più evidenti segni di degrado che è stato compiuto presso il laboratorio diagnostico delle matrici dell'Istituto Nazionale per la Grafica ha evidenziato la presenza superficiale di sali di rame di tracce di tracce di carta di lavorazione zone di micro corrosione resti anche di inchiostri non non puliti durante la lavorazione che hanno comportato in alcuni casi delle piccole perdite di segno la fortuna di disporre ancora di queste opere per poterne studiare con gli ausili tecnologici del nostro tempo la trama segnica la morfologia la sintassi grafica che le caratterizza ha consentito anche di riconsiderare in qualche modo il ruolo autoriale di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni nella redazione delle sue più celebri carte e di reesaminare la mera funzione strumentale attribuita per il passato a queste matrici l'esame al microscopio di queste opere mentre ha consentito di porre un punto saldo sul loro effettivo stato di conservazione e di definire anche le linee guida per la loro salvaguardia ha aperto altresì la possibilità di distinguere nettamente le fasi di costruzione geometrica dell'impianto cartografico di delineazione grafica dei particolari topografici e delle figurazioni esornative e della loro traduzione in un diverso sistema segnico finalizzato appunto alla riproduzione in serie per via calcografica quanta parte delle fortune di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni fosse da attribuire alla felice opera dei personaggi come Polidanna Cattane o Guerra è stato detto più volte Vladimiro su questo posto gli accenti più chiari più netti rimane forse ancora se fosse necessario precisare proprio i termini di questa cosa aggiungo peraltro che proprio con specifico riferimento a Daniello Cattaneo a Giuseppe Guerra Vladimir ha evidenziato più volte il loro determinante contributo e ha però anche richiamato la loro provenienza dal mondo della produzione e non dell'accademia che ha un peso rilevante perché in questo modo si sottolinea in pratica la precisa volontà di Rizzi Zannoni tesa ad evitare rapporti critici con personaggi troppo ingombranti che avrebbero probabilmente potuto in qualche modo ostacolare i suoi progetti la sua leadership all'interno di questo gruppo che stava per costituirsi appunto a Napoli cioè Rizzi Zannoni si sarebbe accontentato diciamo così di avere dei collaboratori di secondo piano tra virgolette ovviamente per evitare confronti con persone dotate di forse di forte personalità artistica preferendo magari relazionarsi con degli esecutori più facilmente governabili ma senza volerlo nel ricorrere ai tecnici della reale stamperia la scelta si rivelò felicissima perché come scritto Elio Manzi nel 74 sotto l'esperta guida di Rizzi Zannoni si andò formando una vera scuola di incisione geografica che dette luce a produzione di grande pregio artistico noto è del resto il giudizio coevo sulle opere che dall'officina topografica vedevano la luce tra la fine del 700 e l'800 e sui due personaggi in questione che ho appena richiamato con specifico riferimento alla ecco scusate mi sono un po' le lastre le lastrine poi sempre alla fine ecco questo è l'unico pregevolissimo quadro olio sottila posseduto dall'Igm va bene e dicevo i riferimenti sono sono quelli che vado un attimo a richiamare con specifico riferimento dicevo alla rappresentazione del terreno ce l'ha richiamato anche Vladimir poco fa delineata da le forme morfologiche delineate da Alessandro Danna e tradotte poi sul rame da Giuseppe Guerra con incisione all'acquaforte e al bunino il Sula V scriveva nel memorial tout un set carte du ruarium de Napoli d'une exécution superiore le bassin le vallee le sondulession du terreno sono di grande verità le parque le forette sono dettagli con l'ux con riferimento invece alle mediocre capacità degli incisori cartografi italiani sempre nel memorial topographic 1803 il capo degli ingegneri geografi del depot della guerra Baclidalb scriveva le venissien ont quelques gravures ma mediocre ainsi che si de Rome ce n'est pas cannable que Joseph Guerra se distinguue journalement dans la suite des cartes de Rizzi di Sannone mentre il ministro della guerra francese Alessandro Berthier nel suo precedente rapporto consul della repubblic del 25 agosto 1802 con evidente riferimento all'opera di Giuseppe Guerra scriveva tra l'altro che Rizzi Zannone ha più composé che costruì della geografia il doit annexer l'angraveur une partie de sa celebrité quanto di questo felice esito sia effettivamente da riconoscere nell'operato del geografo Patavino e quanto sia ad attribuire alla sensibilità artistica le capacità tecniche di chi redasse il disegno delle carte chi ne tradusse in forme relativi segni costituisce ancora il nodo centrale della questione anche se le diciamo che i ruoli sono ben chiari sono stati ben chiariti da da Vladimiro per il passato mentre nessun dubbio quindi sorge in merito al ruolo di progettazione di georeferenziazione impianto e direzione di lavori svolto da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni per la realizzazione delle magistrali opere napoletane una riduzione di responsabilità autoriale del geografo Padovano forse emerge proprio dall'esame dei procedimenti attraverso i quali si giunse al conseguimento di quelle felici sintesi grafiche che generarono questo eloquente disegno delle forme del terreno e i ricchi apparati decorativi delle carte l'elemento discriminante credo che sia dato possa essere recuperato proprio dalle tecniche di trasporto delle figurazioni grafiche e cartografiche dai disegni originali alle lastre metalliche il trasporto appunto dal disegno alla lastra e dalle modalità di intaglio delle matrici queste ultime eseguite con tecnica mista abbiamo detto di incisione indiretta e diretta prima all'acquaforte poi con tratti a bolino mostra il peso della sensibilità artistica e della cribia tecnica dell'incisore al quale ultimo era affidato il difficile compito di conferire chiarezza ed effetto plastico a dei segni che altrimenti sarebbero risultate banalmente piatti e privi di ogni capacità imitativa il trasporto del disegno topografico dalla menuta in netto alla lastra non seguiva infatti un mero procedimento meccanico ma era articolato in differenti fasi che alla prima traccia generata dall'azione del mordente con la quale si fissava sulla superficie della lastra di rame il contenuto grafico della menuta faceva poi seguire una serie di interventi localizzati di incisione al bulino attraverso i quali l'autore determinava l'articolarsi di una gerarchia di piani dai quali derivava evidentemente l'importanza delle molteplici informazioni geografiche contenute all'interno della carta e si dava corpo all'apparato esornativo con apposite variazioni di tono le rilevanze segniche e morfologiche scusate sempre un po' di immagini gli strumenti di disegno e di incisione ecco le rilevanze segniche e morfologiche che caratterizzavano l'opera dell'incisore attribuivano all'intervento di quest'ultimo una riconoscibilità individuale mostrano infatti come il trasferimento del disegno originario dalla tavola del disegnatore al piano della lastra del rame includito non era frutto di un processo meccanico di banale mera copiatura al rovescio ma passava attraverso una attenta opera di traduzione traduzione che avveniva appunto per il tramite di una reinterpretazione dei contenuti dei caratteri segnici e degli effetti plastici dell'opera originaria in funzione dell'impiego di un differente materiale scrittorio e non c'era la foto incisione e dell'esito della riproduzione in fase di stampa calcografica l'individualità artistica che emerge appunto dall'operazione di traduzione ecco qui vedete la differente tonalità che viene generata dai tratti che conferiscono appunto una rilevanza uno spostamento di piani della informazione geografica dicevo l'individualità artistica che emerge appunto dall'operazione di traduzione e che l'esame al microscopico delle matrici originali rende maggiormente evidente rappresenta dunque l'elemento notale di qualificazione del contributo autoreale dell'incisore che fa della matrice un'opera di invenzione nella misura in cui essa reinterpretra ed integra l'apparato segnico del disegno originale conferendo a quest'ultimo un valore aggiunto appunto funzionale all'esito calcografico del resto l'importanza del contributo autoriale offerto dall'incisore alla realizzazione del modello a stampa veniva in origine consapevolemente dichiarata nella matrice stessa che quasi sempre riportava i nomi dell'ideatore del soggetto grafico e dell'incisore identificando però in quest'ultimo lo sculptor della forma ecco questa forma un po' retorica dà proprio il senso perché è alla sensibilità di quest'ultimo alla sua perizia tecnica che era in definitiva affidato l'esito comunicativo finale della stampa la differenza e concludo la differenza sostanziale però tra gli incisori del tempo non è dunque data soltanto dall'estrinsecarsi di un sapere tecnico che pur costituiva il presupposto indispensabile in questa operazione ma dalle modalità con cui i costruttori di mappe adattarono il processo di incisione per i loro fini e in questo credo che Giuseppe Guerra seppe dare prova di un superlativo cimento io vi ringrazio per l'attenzione speriamo di rivederci grazie grazie tanto per l'ultimo io più che una domanda vorrei approfittare del fatto perché in fondo parlare per ultimo forse una granza in più la dà ecco approfittare dell'occasione per ringraziare fuori dall'ufficialità Vladimir per questa bellissima occasione e per gli esiti che ha prodotto perché Vladimir lo conosciamo tutti insomma possiamo considerarlo se me lo passa il padre di Rizzi Zannone perché non è un fatto anagrafico chiaramente e penso che insomma queste queste due giornate siano state veramente dense 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 speriamo che quest'anno che abbiamo davanti porterà ancora i frutti così ricchi come questi di queste due giornate grazie Vladimir mancava la pianta della città di Napoli ma manca la Lombardia in cinque fogli e appunto siamo in fase di catalogazione di tutti i materiali abbiamo dato come dicevo alle matrici del ROT stiamo facendo un lavoro veramente certosino tutte le matrici vengono misurate con zonne al millimetro vengono descritte schedate inventariate viene dato adatta una scheda e vengono anche pesate per lovi motivi di cui parliamo non è carta quindi stiamo procedendo in questa lavorazione e queste sono le prime risultanze di questa attività che abbiamo avviato da poco tempo e contiamo però di dare un quadro completo di tutto e speriamo anche di fare magari un piccolo catalogo in occasione della mostra del 27 di ottobre del 27 di ottobre volevo ringraziare Marcus Heinz per la sua relazione perché la verità è negativa nel contesto è molto importante perché è chiaro la relazione between Rizzi Zannoni and Omaners which is not documented in any record surviving important for us anche se è negativa è comunque una conoscenza che aggiunge insomma il quadro diventa forse più scuro ma anche più chiaro un'ultima cosa sulle sì sì le le incisioni dell'Atlante Marittimo caso di ricordarlo sono perfette stupende perché sono state restaurate sei anni fa e sono finite in una mostra che facciamo a Palazzo Reale a Napoli con tutte le carte i rami dell'Atlante Marittimo e le copie relative una mostra proprio dedicata all'Atlante Marittimo quindi questo è uno dei motivi per i quali e dal rame del frontespizio dall'Istituto Nazionale per la Grafica non lo sa tirammo alcune copie cioè è stato stampato a Napoli all'Accademia di Belle Arti di Napoli perché avevano un torchio che consentiva la stampa ed è conservata all'idrografico della Marina questa copia ringrazio di ringraziare tutti che hanno partecipato a questa manifestazione e lo faccio a nome dell'Istituto Veneto che si è impegnato eccetera eccetera di conoscendo all'iniziativa di cui Vladimir Valerio è stato il folletto non quello il folletto organizzatore in qualche modo creatore dando sfogo a una surplus di energia che da qualche anno c'è da qualche anno da una vita è scatenato lì sopra spero che voglia tu voglia continuare fino a quando si arriverà e naturalmente questo diventa sempre meglio e sempre più facilmente realizzabile attraverso la collaborazione di tutti i colori successati di istituzioni comprese e quindi io spero che abbiamo avuto da parte delle istituzioni la disponibilità a partecipare a queste proposte di attività di ricerca e altro possano continuare con lo stesso spirito in modo che effettivamente non si creino altre difficoltà oltre a quelle che non possono non esserci data la natura stessa del lavoro ma si è più recito procedere andare avanti e ottenere dei risultati che tutto speriamo in sostanza questo Rizzi Zannone è una scoperta direi quasi per tutti insomma ha fatto qualche maniaco tutti gli altri tutti gli altri non ne sapevano nulla o quasi insomma quindi grazie a quelli che hanno avuto l'idea di puntare su Rizzi Zannone il primo reo abbiamo ancora qui davanti grazie a tutti quelli che hanno partecipato a sottolineare l'importanza di questa attività dando il loro contributo attivo buon lavoro perché il lavoro non è finito come non sono mai finiti i lavori di tipo storico di ricerca e speriamo che tra cent'anni ci incontriamo ancora per vedere i risultati di un secolo di attività di ricerca su Rizzi Zannone grazie a tutti davvero grazie grazie